Antonio, quanto è importante il tuo quarto gol stagionale? Sì, importante, però più importante è la vittoria alla fine perché abbiamo fatto un buon primo tempo e nel secondo tempo abbiamo lasciato un po' troppo la Sampdoria giocare, però alla fine abbiamo vinto 3-2 e è importante per noi. L'importante è la vittoria, non lo so perché in secondo tempo abbiamo lasciato troppo la Sampdoria giocare, ma più importante è la vittoria perché questo pomeriggio dobbiamo vincere, perché è un momento che non abbiamo vincere a casa davanti ai nostri tifosi. Si va a Frosinone con il morale giusto? Si, con il morale giusto e per prendere 3 punti quando entriamo sul campo vogliamo prendere 3 punti ogni volta e adesso dobbiamo continuare così.